Come state ben ritrovati, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto, di lasciare un bel like, iscrivetevi, attivate la campanella numerosissimi, mi raccomando. Prima di partire volevo farvi vedere questa maglietta, mi sistemo intanto il microfono, la maglietta che mi ha fatto ordinare Simoncino, Simone, di Simonello, di Xavi Simons, eccola qui, dell'Olanda, bellissima, c'è anche il pantaloncino, poteva essere l'eroe della giornata, però poi c'è stata appunto la rimontona dell'Inghilterra, malda molto bella, trovate queste e altre sul sito che vi metto qui sotto, utilizzate il codice sconto AL10 e potete farvi togliere qualche sfizio, ci sono le magliette vecchie, insomma di tutto e di più, il prezzo sui 30 euro con il codice sconto, anche meno, se poi prendete due maglie avete la terza in omaggio, insomma guardate qui sotto c'è tutto, codice AL10, e niente ragazzi, che dire, allora novità importanti, innanzitutto il Milan che si aspetta una risposta ad Adria Arrabio, dentro fuori a breve secondo me sapremo dove andrà, sicuramente sapremo, vedremo se sarà il Milan oppure no, Al di lì in questo momento freddo sull'Arabia Saudita, ma è un discorso che rimane in piedi, offerta al Milan da 5 milioni di euro, dopodiché attenzione, Salemakers in questo momento continua ad allenarsi e vedremo se alla fine ci sarà un cambio di rotta di Fonseca su di lui oppure no, al momento è ancora in uscita, ma non ci sono particolari novità sul suo futuro, poi attenzione ancora perché il Milan, vi dicevamo di Pavlovich, continua la trattativa e si cerca di abbassare le richieste del Salzburgo, ma attenzione perché il Milan vuole fare un altro attaccante, questo sarà un'opportunità, un'occasione, mi dicono di seguire sempre con attenzione Depay, che però ha chiesto 5 milioni di euro, richiesta ritenuta al momento troppo alta, oggi chiede 5, magari tra due settimane ti chiede 4 e il discorso può cambiare, attenzione anche a Ebram come attaccante di scorta che può uscire dalla Roma, vediamo in questo caso la Roma che cosa farà in entrata, però Ebram che è stato proposto anche la Juventus è un giocatore che lascerà i giallorossi e che il Milan segue come ipotesi di panchina rispetto ad Alvaro Morata, per cui il giro decisivo potrebbe essere quello di lunedì, vediamo che cosa succede, fiducia per arrivare a Fofanà in tempi brevi e anche su Emerson Royale anche se si continua a trattare, chiudo con questa domanda, voi però uno come Salemakes lo terreste o lo fareste partire? Ditemelo qui sotto nei commenti, ripeto però attenzione a Depay e anche a Ebram, chi prendereste tra i due scatenatevi, vi ho coinvolto in tante domande, ditemi qui sotto il vostro punto di vista e date uno sguardo qui sotto al sito con il codice sconto AL10, avete 10% di sconto, maglia molto bella, è dell'Olanda, magari potete prendere quella di Renders, comunque ce ne sono anche di altre squadre e di tutto e di più, date un'occhiata, ci vediamo per altri aggiornamenti, un abbraccio a tutti, ciao!